Una domenica all'insegna della storia con un convegno ed una mostra statica di auto d'epoca che ha caratterizzato la mattinata di ieri a Palazzo Dogana. Passato e futuro dell'automobile attraverso la seconda guerra mondiale. E' stato questo il tema della giornata aperta appunto con una mostra statica di auto d'epoca nel cortile di Palazzo Dogana e proseguita con una visita guidata al Museo della Memoria del 43 presso il Pronao della Villa Comunale di Foggia. Poi nella sala della ruota il convegno con lavori introdotti dal presidente di Autoclub Storico Dauno Pietro Piacquaddio che ha preceduto l'intervento dell'avvocato Raffaele Pelillo vicepresidente della Commissione Energie Alternative FIA e di Claudio Manzi vicepresidente del Museo della Memoria 43. A moderare i lavori è stato il giornalista Alberto Mangano che oltre ad essere un appassionato di autostoriche è tra quelli che più di tutti ha insistito per la nascita di un museo dedicato ai bombardamenti del 43 in cui la città di Foggia fu sventrata perdendo migliaia di concittadini. Dalla trazione animale a quella meccanica passando per l'evoluzione dell'automobile arrivando fino ai giorni nostri argomenti che hanno calamitato l'attenzione dei tanti partecipanti che hanno scelto di passare una domenica all'insegna della storia tra passato e futuro.